ciao a tutti bentornati con i dischi della settimana per la voce di genova a cura di disco club che siamo noi e oggi abbiamo quattro cd in realtà esistono anche in lp ma quel bel suono caudolo e vinile non è più tanto adeguato perché siamo in estate e quindi abbiamo saltato una settimana per cause di forza maggiore ma siamo tornati con voi oggi puntata super buscadera un po nel ricordo di paolo caru che è mancato recentemente e cominciamo subito allora ennesima ristampa di miliang miliang è molto criticato qui in negozio è molto comprato perché ristampa veramente qualsiasi cosa e più o meno una volta al mese ci regala un disco nuovo un disco d'archivio un disco del vivo un disco con un progetto speciale è una cosa del genere questo che si intitola early days in realtà l'avevamo un po sottovalutato perché appunto tutti i clienti dicevano no basta negli anghi cosa fa ancora un altro questo invece molto interessante infatti abbiamo polverizzato subito perché sono incisioni inedite nel 1969 che fotografano una delle primissime incarnazioni di crazy horse quindi studio quindi sente benissimo e per il momento solamente una canzone era stata utilizzata in questa versione quindi affrettatevi che ce ne vi pochi passiamo oltre dei valving e jimmy dail gilmore con texicali dei valvi lo conoscete e probabilmente conoscete anche jimmy dail gilmore entrambi ovviamente parlano di americana in vari formati quindi più vicino certo blues certo rock n roll per dei valvi più vicino al country più moderno per gilmore e questo album che il loro secondo album insieme si intitola texicali e parla un po diciamo di questa musica di passaggio di queste storie fra texas e california quindi viaggi che si fanno per andarsi a trovare e registrare anche questo molto buono e anche questo molto venduto passiamo ad altro uno dei giganti della musica country la musica in generale americana johnny cash songwriter cos'è questo è un nuovo disco di johnny cash non credo proprio perché è morto ormai da parecchio tempo e allora cos'è di preciso prima che rick rubin lo salvasse dalle secche economiche e forse anche artistiche che lo contraddistinguevano nel 1993 johnny cash aveva inciso nashville alcuni demo alcuni demo che sono sorpresa delle sorprese proprio a questi qui sono molto diversi da dal percorso che gli ha fatto fare di club in con l'american e fotografano un johnny cash forse più scherzoso che è un po quello che non voleva rubin quindi ha cercato di in qualche modo focalizzare sull'aspetto più tenebroso e stiloso del man in black quindi molto interessante non per tutti forse ma un nuovo album di johnny cash è sempre comunque un nuovo album johnny cash non sono i demo come ce l'avevano venduti all'epoca perché ci sono state varie interpolazioni hanno tolto delle cose hanno aggiunto delle cose e ci sono anche degli ospiti in più come dan hauerbach a esempio vince gill che però detto fra noi si sente una malapena quindi se volete johnny cash duro e puro è comunque qui concludiamo con questo che è il nuovo album nathaniel rateliff con i night sweats south of here sapete probabilmente già cosa aspettarvi e quindi quest'unione fra questo ritmo blues revival questo soul retro dei night sweats e questo storytelling country americana di rateliff con la sua voce molto importante sta avendo un bel successo loro credo stiano per partire con un tour americano e poi ti sa arriveranno anche da queste parti e se continua così non è una grande estate da punto di vista climatico ma vi auguro comunque un buon proseguimento ciao ciao